Il fine settimana appena trascorso ha visto nuove mareggiate colpire la costa terramana aggravando il problema dell'erosione marina. Alimentate da un intenso vento di settentrione, le onde tra sabato e domenica hanno eroso ulteriormente tratti di arenie leggeridotti, mettendo in evidenza una situazione critica che perdura da tempo. Uno dei punti più colpiti è stato il tratto di spiaggia all'altezza del quartiere di Villardente a Pineto Nord, qui le onde hanno raggiunto la barriera di massi posizionata per proteggere la pista ciclabile della Pineta Catucci, arrivando a minacciare anche alcuni stabilimenti balneari. Non ci sono stati danni rilevanti perché in tempi non sospetti abbiamo tempestivamente riproposto la formula dei massi ciclopici a protezione degli stabilimenti balneari che comunque consente di limitare i danni. Certo non è la soluzione del problema, la soluzione del problema va individuata ovviamente nel perfezionamento delle opere di difesa rigida e qui purtroppo siamo ancora fermi al palo perché non riusciamo a completare intanto il progetto del primo lotto, del secondo lotto funzionale. È stata realizzata soltanto una parte di questa progettualità, deve essere terminata e deve essere fatto anche il ripascimento, parlo delle cosiddette sommersi ovviamente. Poi siamo ancora in attesa di giudizio per quanto riguarda invece il famoso terzo lotto che prevedeva appunto un tratto di barriere emerse sulle quali incombe il ricorso al TAR del WWF che non pedisse coordinanza di sospensiva del TAR stesso di tutte le attività e di tutti i lavori e adesso ci sarà, credo nel mese di dicembre se non ricordo male, a seguito di rinvio già comunicato l'udienza nel merito di fronte alla magistratura amministrativa abruzzese. La situazione della costa terramana però rimane fragile e sempre più esposta alle conseguenze di fenomeni atmosferici intensi. Le mareggiate degli ultimi giorni rappresentano un nuovo campanello d'allarme per l'adozione di interventi strutturali e duraturi che possano contrastare l'erosione e preservare l'ambiente costiero. Io credo che ci vorrebbe un minimo di uniformità nelle scelte progettuali definitive da attuare su ogni singolo comune e su ogni singola parte della costa tenendo presente ovviamente quali sono poi le differenze che possono esserci tra la costa terramana e quella immagino per esempio dei Trabocchi.